Nel percorso di Poggio alla Guardia, che fa sempre parte di uno dei lavori più importanti di Giacomo Bonelli, voglio fare insieme ai tuoi amici giovani, che ci sono tanti, oggi ci hai portato a correre e a faticarci, facciamo un gioco, no? Facciamo un gioco. Sono amici giovani che ho capito durante il percorso che hanno stima, simpatia. Prova un po' a chiedere a loro quello di cui hanno bisogno, quello che vogliono da te in politica a livello locale. Ecco ragazzi, qual è il vostro desiderio che se io diventassi sindaco, voi cosa vorreste da me? Chi parla? Parla al maschietto qua, vai. Sei? Samuele. Iniziative giovanili sicuramente, da tutti i punti di vista, anche a partire dal lavoro, da proposte per cambiamenti, così a livello giovanile, iniziative, non so, vedrà anche Giacomo poi quali saranno le migliori, però per darci un po' più di spazio anche a noi giovani che siamo un po' bloccati in questo momento. E perché ti dà fiducia a Giacomo? A parte questa faccia simpatica, rassicurante, perché ti dà fiducia a lui? Piuttosto che a un altro, insomma. È un amico di famiglia e poi per tanti altri motivi, primo perché ha fiducia sui giovani e punta molto sui giovani. Mi sembra che l'amico di famiglia non è da non considerare perché le tradizioni, invece che questa ragazza carina qua, sei la fidanzata di lui? No. No, così tanto per fare un po' di gossip. Allora, secondo te, Giacomo, cosa dovrebbe fare? Innanzitutto dovrebbe integrarci magari anche di più nei suoi programmi, renderci più partecipe. Ascolta, Giacomo. Sta ascoltando perfettamente. Dice sta ascoltando. Sono soltanto consigli, Giacomo. Se avrai bisogno di noi, chiamaci. Bene, bene. Anche cercare di partecipare. Quindi vieni qua, Giacomo, insieme a tanti amici. Non li possiamo far parlare tutti. Allora, diciamo, in bocca al lupo per le primarie. Mi ringrazio, anche perché in mia sarà una cosa propositiva di rinnovamento. I giovani devono andare avanti a tutto perché loro rappresentano il nostro futuro e saranno loro che guideranno il paese domani o che daranno gli indirizzi giusti, perché questo venga guidato nella maniera più consona a quelli che sono i loro desideri. E con questo buon proposito, quando? Il 9 di marzo. Alle primarie votare Giacomo? Bonelli. Bonelli. Pievanievole, naturalmente. Ciao amici, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao.